60.000 persone in Italia vengono colpite da arresto cardiaco. C'è uno studio che dice che utilizzando tempestivamente un defibrillatore è possibile salvarne il 40%. Ed è per questo oggi che con la nazionale parlamentare del Movimento 5 Stelle e altre tre squadre locali abbiamo organizzato un quadrangolare di beneficenza proprio per sollevare dei fondi per l'acquisto dei defibrillatori che potranno salvare moltissime vite. Il nostro slogan è più siamo e più vite salviamo. Il primo defibrillatore che acquisteremo sarà donato ad una scuola che è stata colpita dall'alluvione del Beneventano. Questo è un primo passo, una prima partita per un lungo campionato di beneficenza. L'indanziamento va a tutte quelle persone che in silenzio senza oggi essere sotto i riflettori, senza magari beccarsi una fotografia ma farla la fotografia. Le persone che magari sono venute qui riempendo la macchina da lontano perché magari avevano riuscita a dare tutto quello che poteva dare. Grazie a tutte quelle persone che silentemente, in silenzio, fanno tutti i giorni un grande lavoro per cambiare questo paese e nessuno se ne ricorda mai. Grazie a tutti, grazie a tutti voi.